Ciao a tutti, sono Giovanni Benvenuti ed in questo video voglio parlare di un argomento sul quale mi sono state poste alcune domande di chiarimento per messaggio privato. Questo argomento è la scala maggiore armonica. L'avevo infatti nominata in alcuni video precedenti e mi è stato chiesto di che scala si tratti e in che modo può essere utilizzata a fini improvvisativi. In questo video ovviamente non farò una panoramica storica dei modi in cui è stata utilizzata questa scala nelle varie epoche ma dico solo che questa scala nasce molto precedentemente alla nascita del jazz e quindi non è una scala che nasce con esso. Tuttavia vi è molto presente questa scala può essere vista in due modi o come una scala maggiore il cui sesto grado è stato abbassato quindi nel caso di do maggiore il la mi diventa la bemolle oppure come una scala minore armonica il cui terzo grado si alza quindi do minore armonica il mi bemolle diventa mi naturale. In ogni caso le note sono nel caso di do sono do re mi fa sol la bemolle si do quindi quindi ha una sonorità che ricorda molto la minore armonica ma è appunto in maggiore. Questa scala nel jazz è molto utilizzata soprattutto quando io mi trovo ad avere a che fare con degli accordi di dominante con la nona bemolle che risolvono su un accordo maggiore per esempio sol 7 bemolle nona che risolve su do maggiore. Prendiamo per esempio una progressione di 2 5 1 o re minore sol settima dominante do. Su questo sol settima posso suonare la nona bemolle o perché specificata nella parte o perché io per mia scelta voglio dare questo tipo di sonorità. Se io scelgo di suonare la nona bemolle questa nona bemolle di sol settima è la bemolle. Quindi siccome siamo in tonalità di do maggiore e quindi la scala di riferimento è appunto quella di do maggiore su questo sol settima bemolle nona io suono il la bemolle invece che il la naturale. Quindi ottengo la scala maggiore armonica di do. Quindi suonerò la scala maggiore armonica di do a partire dal quinto grado cioè sol. Faccio alcuni esempi di questo tipo di progressione suonata e affrontata con questa scala. Quindi re minore sol settima nona bemolle. Do maggiore. Ci suonerò un po' e farò alcuni esempi utilizzando la scala maggiore armonica di do sul sol setti. la scala maggiore armonica di do. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a seguirmi sulla pagina Facebook Giovanni Benvenuti Music. Ciao a presto.